Ciao a tutti, benvenuto a questo nuovo video, questo è il secondo video che faccio perché il primo è andato male, il primo è andato male, comunque io faccio a Zoe che fa il suo scavo, e sto trovando dei diamanti, qua ci sono dei gioielli, vedete? adesso io voglio ripartire con il video perché purtroppo è andato male, allora prima cosa che farò vedere, per prima cosa ho preso questa bottiglietta che in teoria avevo sete e quindi non sapevo cosa prendere e quindi ho preso questa bottiglietta, poi lo satori con tutte le misurine qua, comunque ci sono tutte le misure, mi sa che l'ho pagato 2 euro, siccome mi sono trovata bene perché avevo comprato questa cartellina così però più piccola, ne avevo trovato bene con questi colori quindi le ho ricomprate però più piccole, cioè più grandi, la confezione è completa quindi ho preso questa qua, che non mi ricordo quanto l'ho pagata, ho preso questa bottiglietta così, sono così bellissima, ho paura che cavano, non crollano tutti però io sto provando a scavare si poi, ah questa che poi me la sono dimenticata, berla perché l'ho comprata e la prendo sembra che se no mi piace non mi piace poi avevo preso questo delle candelline tra di vabbè, così delle candelline, questa col 3, questa col 5 forse fare un video dove la decorerò perché così non mi piace perché a luglio farò gli anni quindi ho voluto prendere queste che costavano forse un euro mi sembra e niente ho detto la decoro poi e quindi questo pacchetto di cioccolatini con coniglietto questo pasquale che già so che la Pasqua è passata però questa busta cioè questo acquisto l'ho fatto a marzo e l'ho lasciato lì e poi fatto il video, mi sono dimenticata non è che mi sono dimenticata, avevo altre cose da fare quindi una cosa che mi serviva ho preso queste buste fatte così in cui sono 5 buste del regalo con questi cricetti e molto kawai poi ho preso questa carta velina sono 15 fogli tutti questi colori mi servivano perché poi dovevo incartare una cosa che vi farò vedere ho detto lo prendo sempre mi servirà mi sarà comodo poi questi gancetti che ci sono 4 però veramente erano 8 euro e li ho preso queste pinzette perché per me è molto più comodo perché li ho tagliati quindi 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 non fatelo quando non avete niente da fare non tagliati i capelli come me poi c'è da dire che si cazzo allora ho preso questo grattugia mini grattugia tutto formaggio quello che volete grattugiare poi ho perso poi queste caramelle che le prendo sempre 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 allora ho preso questi temperini due di questa maniera ci sono tre buchi così colore verde perché è rossa l'avevo preso due uno se l'ho preso due e questo era per me e dovevo sempre arcobaleno molto arcobaleno che me ne ha regalato una mamma poi siccome io tendo a dimenticare tutti i compleanni anche mio ho preso questo calendario dei compleanni fatto così cioè so già come è fatto perché sa quel video allora gennaio se lo vedete c'è gennaio con tutti i numeri e voi scrivete a fianco il nome della persona che fa gli anni in quel mese c'è tutto l'anno diversi colori eccetera se non ne sbaglio costa un euro a marzo costa un euro ho visto dei video ho visto dei video dove l'hanno fatto vedere che costava ragazzi 25 centesimi si l'ho pagato un euro le penne ve le farò vedere per ultimo perché la gran parte la gran parte di questi acquisti erano penne ho preso queste due bellissime tazze della collezione di febbraio di san valentino queste due tazze una bianca una rossa con bianco dentro quindi si mi crolla questa tazza allora questa tazza va messa nella lavastoviglie nel microonde non si può congelare cioè non si può mettere nel freezer e nel meno in forno era veramente già con questa confezione cioè l'ha incartato con questa carta di tagli e bla 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 perché avevo fatto il video quindi no allora questi acquisti io li ho fatti a marzo ma ma praticamente io sono stata male perché io sono stata a febbraio a ricoverata che mi erano operata 15 giorni quindi a marzo sono uscita il primo di marzo e sono andata a fare subito questi acquisti e quindi io poi li ho messo un angolo dove fare il video per una cosa o l'altra non ho fatto grande sta le penne parliamone sono penne tutti inchiostro blu volevo infatti chiedervi nei commenti per lasciarmi se voi usate di più l'inchiostro blu o l'inchiostro nero quindi allora questo sono penne di carta sono 4 e costate un euro sono inchiostro blu poi c'è queste due con i visti sono sempre in costo in costo cateto nostro blu uno senza tappo che io non so che fine abbia fatto il tappo però mistero e l'altro è uno bianco una rossa perchè non hanno troppo belli per farli lì poi ho preso questo fiore rosa viola io amo il colore viola e quindi ho detto prendo questo bellissimo fiore e questa penna con l'inchiostro blu più grossamente e quindi ho preso questa che quella costano sempre un euro poi questa penna che praticamente l'ho visto a tutti e così e quella che schiacciando la parte giù ti fa la luce poi per ultimo queste due penne sempre in costo blu e niente questo è tutto che ho fatto tiger di mese di marzo se questo video vi è piaciuto lasciate un like e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao